Il Piemonte torna protagonista alla 56esima edizione di Vini Italy, il salone internazionale dei vini distillati che si terrà dal 14 al 17 aprile a Verona Fiere. E lo fa con una grande novità. Per la prima volta infatti ci sarà un unico spazio che rappresenta i consorsi di tutela, le associazioni di produttori, aziende, cantine cooperative, enoteche regionali e strade del vino e del cibo. A organizzare il programma di eventi promozionali è Piemonte Land of Wine, l'ente che riunisce i 14 consorsi piemontesi del vino insieme a Regione Piemonte. L'area Piemonte sarà come sempre al padiglione 10, con un allestimento completamente riprogettato per collocare le aziende al centro dell'attenzione e dare maggiore visibilità all'area incontri. All'esterno del padiglione sarà allestito il ristorante Piemonte, unico tra le regioni presenti in fiera, ampliato e con una maggiore disponibilità di coperti, con la partecipazione degli chef stellati piemontesi che proporranno un menu a base dei prodotti di qualità del territorio in abbinamento ai vini piemontesi. Inoltre è stato rinnovato il progetto all'arte contemporanea per il Piemonte del vino, in collaborazione con Artissima, che attraverso un concorso per giovani artisti seleziona l'opera che costituisce l'immagine grafica 2024 del Piemonte del vino. Con le miri di DOC di OCG che rispetto ad altre regioni sicuramente hanno dei livelli in numeri importanti e quindi sicuramente il nostro Piemonte è un punto di riferimento storico ma innovativo. Sicuramente noi puntiamo sull'innovazione e l'innovazione dello stand dei Vinitali 2024 lo dimostrerà.